La provincia di Teramo affiderà i privati che vorranno la gestione delle aree verdi. L'ente ha infatti pubblicato il bando e il disciplinare che individua i luoghi che potranno essere dati in concessione. È un'iniziativa che parte da lontano perché praticamente noi abbiamo avviato questo progetto già nel 2007, anche se poi si è sviluppato più nei territori comunali e adesso abbiamo dato il via invece a tutte quelle che sono le aree verdi, rotatorie comprese, di tutto il territorio provinciale, di quello che appunto rientra nel proprietà e disponibilità del patrimonio provinciale. Al momento sono 47 le aree verdi che potranno avere uno sponsor privato ma l'elenco è destinato ad aumentare. Le aree in questione possono essere rotatorie delle strade provinciali, giardini pannella o le uole dinanzi agli istituti scolastici e l'ente chiaramente fornirà indicazione sulla sistemazione di piante e fiori tenendo conto di ciò che prevede il codice della strada. L'elencazione è posta soltanto in via esemplificativa perché comunque può essere aggiornata ed è aumentato l'elenco anche in relazione alle richieste che eventualmente i cittadini possono fare rispetto all'elenco proposto. Quindi non è un'elencazione tassativa. Come non è un'elencazione tassativa il consiglio che noi abbiamo espresso in ordine alle specie botaniche da inserire nel progetto o nell'area verde. per cui tutti possono individuare ed indicare e quindi proporre delle aree in cui è possibile realizzare appunto questa iniziativa.